Allenamento down top dal basso verso l'alto, bella durata di 16 minuti, workout di media intensità dove ci serviranno due manubri e un tappetino. Pronti partiamo! Calciata ai glutei Partiamo con il riscaldamento, prepariamoci al nostro super workout, talloni verso i glutei. Continuiamo, respiriamo. Continuiamo, 5, 4, 3, 2, 1, bene, recuperiamo qualche secondo e ci prepariamo alla sforbiciata con le braccia. 3, 2, 1, via, sforbiciata, solleviamo in maniera alternata le braccia, destra e sinistra. Ispiro, butto fuori l'aria, riscaldiamo bene le braccia, ci prepariamo al nostro super workout down top, 2, 1, e recuperiamo, respiriamo. Ci prepariamo alla calciata alta senza salto. Pronti? Via! Solleviamo le ginocchia, mano ginocchia opposto, riscaldiamo bene le gambe, riscaldiamo bene le braccia, teniamo bene il ritmo ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1, bene. Ultimo esercizio del riscaldamento, qualche secondo di recupero e andremo a fare il movimento pectoral braccia. 2, 1, via, apro e chiudo, apro e chiudo, apriamo bene le spalle e ritorniamo. Ispiro, butto fuori l'aria. Ultimo esercizio di riscaldamento. In, es, in, es, 3, 2, 1, bene. Breve pausa e ci prepariamo al primo giro del nostro workout. Affondi laterali più squat, alterniamo il movimento destra-sinistra, affondo e squat torno. Ispiro, butto fuori l'aria. 5, 4, 3, 2, 1, bene. Re, recuperiamo, ci prepariamo al sumo con molleggio. 3, 2, 1, via. 1, 2, e ritorno. Punte bene aperte dei piedi. Ginocchia che vanno al nostro esterno. Lavoriamo bene con gli aduttori. Lavoriamo bene con i gluti. 5, 4, 3, 2, 1, bene. Recupero, tappetino, ponte con gambe a diamante. 3, 2, 1, via. Solleviamo i glutei e scendo. Ispiro e butto fuori. Sollevo bene i glutei. Contrargo bene i glutei. Ginocchi aperte. 5, 4, 3, 2, 1, via. Bene, recuperiamo, ci prepariamo agli addominali. Sit up. 3, 2, 1, via. Ispiro e butto fuori l'aria. Ginocchia ben aperte. In e destra. Lavoriamo bene con i glutei. Teniamo bene il ritmo. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1, bene. Recupero. Prendiamo i manubri e ci prepariamo alle croci. 3, 2, 1, via. Apro e ritorno. Apro e ritorno. Controlliamo bene il movimento. In apertura e al ritorno. Apro e chiudo. 4, 3, 2, 1, via. Ritorniamo su. Ultimo esercizio, ragazzi. Alzate laterali. 3, 2, 1, via. Sollevo le braccia e scendo. Le braccia sono leggermente piegate. Altezza spalle. In e destra. Non superiorni l'altezza delle spalle. Gambe leggermente piegate. 4, 3, 2, 1. Breve pausa e ci prepariamo al secondo giro del nostro workout. Affondi laterali e squat. Alterniamo bene il movimento. Destra e sinistra. Affondo e squat. Affondo e squat. Lavoriamo bene con i gluti, con le gambe. Teniamo bene la posizione delle ginocchia. Non superiamo la punta dei piedi. Destra e sinistra. Respirazione attiva. Tenete bene il ritmo. 4, 3, 2, 1. Bene. Recuperiamo. Prepariamoci allo squat con un legge. 3, 2, 1. Via. 1, 2. E ritorno. Ginocchia ben aperte. E ritorno. 1, 2. Sollevo. Lavoriamo bene i gluti. Arduttori. Interno coscia. Punte dei piedi rivolte verso l'esterno. Ancora. Respirazione attiva. Mi raccomando. Bene. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo. Tappetino. Recuperiamo. Ponte gluti. Gambe a diamante. 3, 2, 1. Via. Sollevo. E ritorno giù. Ispiro. Butto fuori. Lavoriamo bene con i gluti. Le ginocchia sono aperte verso l'esterno. Glutei che lavorano. Contraggo bene i gluti. In. E adesso. Tenete bene il ritmo. Ancora qualche secondo. In. E butto fuori. 4, 3, 2, 1. Bene. Ci prepariamo agli addominali. Si tappa. 4, 3, 2, 1. Via. Mi sollevo. E scendo. Ispiro. E butto fuori. Ginocchia bene aperte. Lascia l'esterno. Respirazione. Attiva. Lavoriamo bene con gli addominali. Controlliamo bene il movimento. Salite e discesa. 5, 4, 3, 2, 1. Bene. Recupero. Prendiamo i manubri. E ci prepariamo alle incroci. 3, 2, 1. Via. Apro. E ritorno. Petto orale. Apro bene il petto. Apro bene le spalle. E ritorno. Movimento controllato. In salita. E in discesa. Respirazione attiva. Ispiro. Putto fuori l'anima. Ancora. Prendiamo bene. Torniamo. In e des. Ancora qualche secondo. 4, 3, 2, 1. Ottimo. Ultimo esercizio. Alzate i laterali. Qualche secondo. 3, 2, 1. Via. Sollevo. E ritorno lungo i fianchi. Alzate i laterali. Solleviamo le braccia. All'altezza delle spalle. Abbiamo le gambe leggermente piegate. Respirazione attiva. Ispiro. Respiro. In. E adesso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo. Breve pausa. E ci prepariamo all'ultimo giro del nostro workout. Ciao. Affondo i laterali e squat. Alteniamo bene il movimento. Destra e sinistra. In e des. Affondo e squat. Lavoriamo bene con i glutei. Le gambe. Attenzione al ginocchio. Non superiamo la punta del piede. Teniamo bene il ritmo, ragazzi. Ancora qualche secondo. 4, 3, 2, 1. Bene. Recupero. Mi preparo al sumo squat con il molleggio. 4, 3, 2, 1. Via. 1, 2. Ritorno. Scendo. Ginocchia verso l'esterno. Mi raccomando con i glutei. E mi raccomando a tenere le ginocchia verso l'esterno. Spendiamo. Espiriamo. Inspiriamo. Ed espiriamo. Teniamo il ritmo. Ancora qualche secondo. 4, 3, 2, 1. Bene. Andiamo giù sul tappetino. Ponte in glutei. Gambe a davanti. 3, 2, 1. Via. Sollevo. E scendo. Contrargo i glutei. E scendo. Ginocchia bene aperte verso l'esterno. Inspiro. Respiro. Mi raccomando tenete bene il ritmo. Ultimo giro. Non vogliamo. In e des. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Bene. Recuperiamo. Ci prepariamo. Agli addominali. Si tappo. 3, 2, 1. Via. Sollevo. E scendo. Inspiro. Butto fuori l'aria. Mi raccomando. Posizione delle ginocchia a tette. Adonativo. Facciamo lavorare bene gli addominali. Tenete il ritmo. Non vi fermate. Ultimo giro del nostro workout. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo. Manubri. Ci prepariamo alle croci pettonali. 3, 2, 1. Via. Apro e chiudo. Apriamo bene il petto. Apriamo bene le spalle. Pieghiamo leggermente le braccia. Attenzione al movimento. In discesa. In salita. Inspiro. Butto fuori l'aria. In. In. E respiro. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo. Ultimissimo esercizio. Date laterali. Recuperate. 4, 3, 2, 1. Via. Sollevo altezza spalle. E scendo. Piego leggermente le braccia. Non superiamo l'altezza delle spalle. Inspiro. Respiro. In. E adesso. Continuiamo l'ultimo esercizio. Inspiro ed espiro. Ancora. Controlliamo bene il movimento. Salite e discesa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Breve pausa e ci prepariamo allo stretching finale. Portiamo le mani sulla caviglia destra. Teniamo le gambe distese. Teniamo le gambe distese. Teniamo le gambe distese e iniziamo ad allungare i muscoli. respirazione attiva. Respirazione attiva. Allunghiamo bene le gambe distese. Allunghiamo bene le gambe distese. 5, 4, 3, 2, 1. Bene. Si ritorno al centro. Recuperiamo qualche secondo e andremo a fare una respirazione con circonduzione delle braccia. Pronti? Via. Ispiro. Apro bene. Respiro. In. Ed S. Apro bene le braccia, le spalle. Circonduzione completa. Respiriamo. Allunghiamo bene. 4, 3, 2, 1. Recupero e mi preparo all'ultimo esercizio di stretching. Laterale sul fianco destro e sinistro. Via. Inspiro. E respiro. Alterniamo il movimento destra e sinistra. In. Ed S. Ancora per qualche secondo. 4, 3, 2, 1. Allenamento terminato. Iscrivetevi al canale TN Fit. Cliccate sulla campanella per restare sempre tornati. E scriveteci in vostro commento per sapere se vi è piaciuto il nostro workout.